Che cos'è l'anima-gruppo animale? L'anima-gruppo del mondo animale è quell'individuo che manifesta la propria esistenza nel mondo naturale in più veicoli fisici. E le esperienze di ciascuno di questi veicoli sono trasmesse all'anima-gruppo cui il veicolo appartiene. Per esempio, l'ape è un veicolo fisico dell'alveare. L'anima-gruppo a che serve? L'anima-gruppo è il punto di convergenza in cui diversi individui fanno esperienze diverse nei regni naturali. Un altro esempio di anima-gruppo animale è il formicaio, la cui vita si svolge come se una formica fosse il senso del tatto dell'anima-gruppo, un'altra il senso dell'udito, un'altra il senso della vista, ecc. Fino a quando l'animale appartiene alla stessa anima-gruppo? Fino a quando l'individuo animale, per evoluzione raggiunta, non passa da un'anima-gruppo molto numerosa a un'anima-gruppo meno numerosa? Anche l'uomo appartiene a un'anima-gruppo? No, perché l'essere si incarna come uomo proprio perché, sempre per evoluzione raggiunta, inizia ad avere un'anima singola.